Ciao a tutti, sono Domenico Bruzzese, sono un fotografo e filmmaker indipendente di Torino. Sono qui per presentarvi la terza edizione del mio corso di fotografia digitale base e semiavanzato presso soluzioni artistiche. Il corso si compone di 10 lezioni, 5 teoriche e 5 pratiche. Le 5 lezioni pratiche sono composte da scatti in esterna, shooting di studio adibiti, visioni di film e incontri con fotografi professionisti e le loro lezioni aperte. Il mio corso è indicato alle persone di tutta l'età, tutti coloro che vogliono imparare l'arte della fotografia senza necessariamente avere un mezzo fotografico professionale. Alla fine del corso si sarà acquisito un nuovo senso estetico in grado di valutare la gradevolezza di un'immagine e poter leggere una scena. Cercherò di insegnarvi come poter avere occhio critico sul mondo che avete intorno per poterlo immortalare in digitale e per poterlo perfezionare in post-produzione. Per maggiori informazioni rimanete in contatto con la segreteria di soluzioni artistiche su soluzioniartistiche.it oppure sulla mia pagina personale Piano B Film. A presto.